Buongiorno ragazzi e benvenuti alla seconda video lezione sul ciclo dei vertebrati. Oggi parliamo di rettili. I rettili sono stati i primi vertebrati interamente terrestri, cioè in grado di svolgere l'intero ciclo vitale sulla terraferma. Sostanzialmente questa possibilità è stata fornita da due grandi novità che questa classe di animali presenta. La prima novità è l'uovo amniotico. Di che cosa si tratta? Si tratta cioè di un uovo così come noi siamo abituati ad immaginarlo, rivestito esternamente da un guscio calcareo che presenta all'interno l'embrione immerso all'interno di un sacco amniotico. Il tuorlo dell'uovo nutre l'embrione fino alla schiusa. E' come se in realtà questo uovo, questa piccola struttura riproduttiva, riproducesse un ambiente acquatico. E in effetti l'embrione rimane immerso nel liquido fino al momento della schiusa, cioè al momento in cui non ha formato tutti gli organi ed è quindi in grado di affrontare una vita terrena. Se ben ci pensiamo ragazzi anche quello che succede nei mammiferi e quindi anche nell'uomo per tutta la vita diciamo di sviluppo fetale il feto si trova appunto immerso all'interno del liquido cioè in ambiente acquatico. I rettili quindi se vogliamo insomma inquadrarli in generale innanzitutto sono eterotermi quindi la loro temperatura varia in funzione della temperatura ambientale ecco perché a volte possiamo osservare serpenti o le lucertole riscaldarsi al mattino sulle rocce proprio per acquisire il calore dall'ambiente esterno e ovipari cioè abbiamo detto producono le uova. Poi abbiamo la seconda grande e importante caratteristica che ha permesso ai rettili di colonizzare l'ambiente terrestre ovvero la loro epidermide. Hanno cioè un corpo ricoperto di squame che permette loro di non perdere acqua per evaporazione ok quindi protegge molto dalla disidratazione. Queste squame però irrigidiscono molto la cute dei rettili tanto che questi hanno bisogno di andare incontro periodicamente a delle mute cioè a un ricambio dell'intera epidermide che permette così di praticamente accrescere le loro dimensioni corporee. La respirazione poi è interamente polmonare. I rettili a livello evolutivo sono i primi animali a possedere dei polmoni pienamente funzionanti e quindi in grado di assicurare l'apporto di ossigeno all'intero organismo. Abbiamo però ancora poche scarsissime direi cure parentali. Le uova vengono deposte ma poi abbandonate normalmente deposte in ambienti protetti o sotto la sappia pensiamo ad esempio alle tartarughe ma poi i piccoli sono immediatamente autonomi. Abbiamo sempre la produzione di un gran numero di uova proprio per assicurare la sopravvivenza delle specie. Queste modificazioni nel corpo e nella riproduzione dei rettili hanno fatto sì che nell'era mesozoica cioè circa 200 milioni di anni fa essi fossero i veri dominatori dell'ambiente della vita sulla terra dell'ambiente terrestre. Pensiamo ai grandi dinosauri ecco sono stati tra i più grandi vertebrati ragazzi che sono esistiti sulla terra. La loro estinzione vi ricordate risale a circa 65 milioni di anni fa. Tra i rettili esistono tuttavia specie dalle caratteristiche profondamente diverse. Il primo raggruppamento all'interno dei rettili che possiamo citare sono i cheloni cioè le tartarughe e le testugini. Allora tartarughe e testugini ragazzi erano già presenti sul nostro pianeta 200 milioni di anni fa proprio all'epoca dei dinosauri e sono sopravvissute sostanzialmente alle estinzioni di massa. Certo le specie che esistono oggi sono più piccole e differenti un pochino insomma rispetto a quelle del passato ma sostanzialmente la loro struttura anatomica è sempre la stessa e caratterizzata cioè da questa struttura rigida questo guscio si può dire così anche se il suo nome corretto sarebbe carapace all'interno del quale le tartarughe possono ritirare le zampe anteriori e posteriori e il capo in maniera da rimanere perfettamente protette all'interno di questa sorta di scatola. Il secondo raggruppamento che prendiamo in considerazione è quello dei loricati all'interno del quale troviamo ad esempio i coccodrilli gli alligatori i caimani. Beh questo raggruppamento è caratterizzato innanzitutto da avere delle piastre osse vere e proprie che rinforzano a livello dorsale cioè sulla schiena il corpo appunto del coccodrillo. Sono considerati i loricati i più evoluti tra i rettili. Hanno ancora delle zampe palmate che permettono loro di muoversi molto agevolmente nell'acqua anzi probabilmente sono proprio più agili nel nuoto che non nel muoversi sulla terraferma e una coda anch'essa molto molto adatta al nuoto. Un ulteriore raggruppamento è quello degli ofidi che comprende appunto i serpenti. Gli ofidi fanno parte del raggruppamento degli squamati. Allora i serpenti sono caratterizzati da non avere zampe ma da muoversi strisciando appunto sul terreno compiendo appunto dei movimenti sinusoidali che permettono la propulsione. Alcune caratteristiche interessanti sono la capacità di dilatare tantissimo mandibola e mascella in maniera tale da ingurgitare praticamente intere le loro vittime. Una lingua bifurcuta che permette di... è una sorta di organo di senso quindi permette di percepire l'ambiente circostante soprattutto anche le variazioni di temperatura che segnalano al serpente la presenza della vittima. E poi ancora un'altra caratteristica che però riguarda soltanto alcune specie è l'essere velenosi. Nei nostri climi insomma possiamo senz'altro ricordare tra gli ofidi la vipera che è un serpente appunto che inietta, può iniettare appunto del veleno con il proprio morso anche se è corretto ricordare che in quei pochi casi in cui è capitato che una vipera abbia morso un uomo l'ha fatto più che altro per difesa di certo non per ragioni di caccia o di predazione. Il raggruppamento però più numeroso è quello dei sauri. Siamo sempre all'interno degli squamati quindi di quei rettili che hanno il corpo appunto ricoperto da squame. Ebbene qui troviamo i varani tipo il varano di comodo che è il più grande sauro oggi vivente e può raggiungere la lunghezza di tre metri oppure troviamo le più comuni e conosciute lucertole. Anche le lucertole fanno parte dei sauri con una capacità che è riscontrabile insomma anche nei nostri ambienti ovvero quella di poter perdere una parte del loro corpo, la coda, in questo modo distraggono diciamo l'aggressore e poterla appunto rigenerare. Questa è una peculiarità che le riguarda molto interessante. Le lucertole sono sicuramente i rettili che vivono più a contatto anche con gli ambienti in cui vive l'uomo e quindi più facilmente osservabili. Un ultimo aspetto interessante a proposito dei rettili riguarda la loro modalità di riproduzione. Essendo la loro vita interamente terrestre in tutte le fasi a partire insomma dallo sviluppo dei rettili cominciamo a avere una fecondazione interna quindi un atto di accoppiamento in cui appunto il liquido seminale maschile entra direttamente all'interno dell'apparato femminile. In questo modo si assicura che i gameti possano appunto incontrarsi e quindi formare lo zicote e dare vita appunto ai nuovi organismi all'interno delle cellule uovo. Bene ragazzi e con questo abbiamo concluso questa breve lezione sui rettili davvero molto introduttiva solo per quanto riguarda le caratteristiche principali per cui io vi saluto e ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao!